5 febbraio 2020, giornata nazionale della lotta contro lo spreco alimentare. To go to go c'è, ci siamo e vogliamo dare un segno forte in questo challenge enorme del nostro secolo. L'idea è quella di invitare ogni nostro user, ogni nostro consumatore, ogni italiano a dare un segno forte nella lotta allo spreco alimentare, in qualsiasi modo, facendo le ricette anti-waste, svuotando il proprio frigorifero, smettendola di buttare, consumando dei prodotti preferibilmente entro il, o anche comprando delle mg box e salvando cibo in panetterie e supermercati di tutta Italia. L'idea è quella di fare un'azione concreta contro lo spreco alimentare e taggarsi su Instagram, su LinkedIn, sui social con l'hashtag ilcibo non si butta.